Ma che buono! Guardate qua, guardate qua! Sssssh! Sssssh! Sapere che l'esame avrà luogo in un certo modo, con una certa modalità, quindi nel prossimo esame di Stato non ci saranno più le buste e ci sarà la traccia di Stato. È arrivato via social network l'annuncio del ministro dell'istruzione Fioramonti, due piccole modifiche all'esame di maturità. Intanto rientra il tema storico tra le tracce della prima prova scritta, quella d'italiano. Beh, secondo me è una cosa molto positiva, il tema di storia l'ho sempre ritenuto comunque molto importante ed educativo e penso sia importante per noi giovani soprattutto avere un'opinione di critica su quella che è la storia e quindi insomma ci piace. E poi vengono eliminate le famigerate buste, ovvero l'avvio dell'orale scegliendo un plico chiuso contenente uno spunto a sorpresa da cui partire per fare dei collegamenti tra quanto studiato. Gli insegnanti dovranno invece preparare dei materiali che agli studenti saranno già noti. È un sollievo pensare di non dover più affrontare quel momento di incognito? No, francamente per me no, perché mi piaceva la modalità di estrarre un argomento e poi collegare le varie discipline mediante le nostre conoscenze. Sicuramente bisognerà capire ancora se questi materiali che ci danno i professori all'inizio del colloquio il nostro colloquio si baserà tutto su quei materiali o seppure ci possiamo distaccare da questi materiali che ci daranno i professori durante il colloquio. State pensando alla maturità? La data si avvicina? Come la vivete? Ci pensiamo tanto, ma abbiamo iniziato a pensarci già a settembre. L'ansia c'è perché comunque è un esame impegnativo, però adesso piano piano cerchiamo di impegnarci al massimo. Ma caldo, va? Grazie.